8 persone arrestate, 32 avvisi di garanzia. Questo è il bilancio dell'operazione Leonardo, portata a termine dalla DDA di Milano. I militari hanno anche sequestrato proiettili di vario genere, 900 grammi di ascisce, 800 di marijuana e 56 mila euro in contanti. L'organizzazione disponeva di due basi a Tribiano e Gestiva, tre bar usati come copertura per l'attività di spaccio. Dopo il caso Expo, ora quello sanità. Non è un bel periodo per Maroni in Lombardia. Dopo gli arresti dei direttori generali delle aziende ospedaliere di Lecco e Meleniano, la giunta regionale si è vista costretta a sospenderli dalle loro funzioni. Intanto Maroni ha avvocato a sé la riforma della sanità lombarda, gestita sinora da Mario Mantovani. Incidente in via Maia Bergamo. Una donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. La donna, una 45enne rumena, è stata portata al Papa Giovanni con ferite alla testa. Nulla di grave invece per il motociclista, una quarantenne residente in città. Un ciclista di 78 anni è morto ad Adro mentre stava facendo una gita con un amico del fratello. Il pensionato, mentre pedalava, ha cercato di prendere la borraccia dell'acqua quando ha perso l'equilibrio ed è finito violentemente contro un albero. Due bresciani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per reati fallimentari. Avevano portato al fallimento tre società che operavano nel settore del commercio delle auto, sottraendo beni per un milione e mezzo di euro. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni per un importo equivalente. Stava attraversando la strada col suo monopattino quando è stato investito da una vettura e ha caduto davanti ad un asilo di Cinisello Balsamo. Una bimbo di quattro anni è rimasto ferito ed è stato portato al Bassini di Cinisello. Inizia venerdì nei padiglioni espositivi di Brescia la nuova edizione di Sport Show. Si tratta dell'unica rassegna dedicata allo sport organizzata in Lombardia. Fino a domenica si farà spazio a tutte le discipline sportive, con la presenza a Brescia di diversi campioni delle varie specialità. Una donna di 78 anni è morta nel suo appartamento in via Donati a Milano a causa delle ustioni riportate provocate dalla bombola di ossigeno che utilizzava per motivi di salute. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Sono ben 90 gli eventi organizzati dalla Statale di Milano per celebrare i 90 anni di fondazione dell'Ateneo. Venerdì 23 maggio sarà coinvolto il polo veterinario di Lodi. Qui alle 10.30 in programma un incontro con i docenti della facoltà, seguito da una visita guidata al centro zootecnico sperimentale. Un uomo di 46 anni ed una donna di 48 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla cerca in territorio di Settala. Per cause ancora in via di accertamento la vettura sulla quale viaggiavano è finita contro un tir. Altre due persone sono rimaste ferite. Nulla di nuovo nel consiglio direttivo di Santa Chiara a Lodi. Il sindaco Simone Ugetti ha riconfermato i tre consiglieri uscenti, Luciano Bertoli, Emanuela Garibaldi e Rosario Cannavò, espressione del volontariato sociale. In particolare Bertoli è stato riconfermato presidente dell'Istituto per Anziani. Un 49enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina sulla Lodivecchio Salerano. L'uomo era in sella alla sua moto quando per cause ancora in via di accertamento è finito contro una vettura. Il motociclista è ora ricoverato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni. Incidente a Pandino lungo la 472 Bergamina. Una vettura guidata da un cremasco di 32 anni mentre superava una bici condotta da un 68enne del paese lo ha urtato con lo specchietto facendolo cadere a terra. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale a Crema.